Capitano, sveglia! Ehi, guarda, ma no! Ah, siete voi, bambini? Scusate, non volevo questa via. Buongiorno, bambini! Chi sono? Ma come? Sono Capitan Eco, il capitano più ecologico che ci sia, che naviga con il suo veliero per i mari del mondo. Stavo pensando, siccome siamo chiusi in casa in questo momento, sarebbe bello poter allietare questi giorni con qualche bella canzone. Io e i miei pirati ne suoniamo tantissime. Per farlo però, ho bisogno prima di presentarvi tutta la mia ciurma, partendo dalla piratessa Rumba! Con i suoi? Ah, cosa sono quelli? È un microfono? O forse no? Vabbè, non riusciamo a capirlo. Ce lo dirà il nostro pirata, Zumba! Eccolo lì! Con due cucchiai di legno! Sì, perché vi insegneremo anche i passi delle nostre canzoni, così potrete ballare con noi. Avete due cucchiai di legno a casa? Oppure, se non li avete di quel materiale, va bene qualsiasi altro materiale? Va bene qualsiasi cosa! Allora siete pronti per ballare e cantare con noi la canzone Capitan Eco? Urrà! È il mio himno! Pronti? Via! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! Urrà! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! Urrà! Se un'isola bella, lontana e selvaggia, con una magnifica candida spiaggia, un giorno trovate insorzata abbastanza, avreste ancora voglia di andarci in vacanza! Ma quei gran bricconi che l'hanno sporcata, da me una lezione si son meritata, riciclo i rifiuti, combatto lo spreco, veleggio sui mari, son Capitane Eco! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! Urrà! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! 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 Se l'acqua del mare trovaste inquinata, ci fareste ancora una bella nuotata, se invece di pesci, coragli e conchiglie trovaste mondizze, melpose e fanghiglie! Ogni bucaniere che fa lo zozzone sa di meritare la mia punizione, sa sporcare il mare, io ancora lo becco, dovrà confrontarsi con Capitane Eco! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! Urrà! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! 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 Insieme a una ciurma dal grande coraggio, giro il mondo e spiego cos'è il riciclaggio, insegno a tenere pulita la terra e all'inquinamento io faccio la guerra! Urrà! E' giusto ed è cosa indovinata, per sempre la raccolta differenziata, è molto ecologico, parola mia, dal vento e dal sole, produrre energia! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! Urrà! Il mondo più bello e pulito sarà per Capitane Eco! eccoci qua bambini grazie per averci seguito questa era la nostra prima canzone ci vediamo con Capitaneco e la sua turma alla prossima canzone ciao